Sì, allora, adesso qua siamo con l'amico Omar che ha fatto una brodaglia, la chiamo io. Questa è una fermentazione naturale, fermentazione spontanea, scuola Zaghini, di uva bianca e fragola. Giusto? Sì, uva bianca. Scuola Zaghini, il mostro, il sacro, ok? Sì, scuola Zaghini marinato, diciamo. Uva bianca e fragole. Fragole non ce n'è tanto, il più che altro uva bianca è quella nostra qua. La frangola serve da me. Quanti giorni è che è dentro? Ah, questo qua è del 29 del 9, è stato stabilizzato dopo tre giorni, per cui diciamo che il primo o due ottobre è stato stabilizzato. Sì, sì, sì. Da quella volta che è in frigo lo è schiato ogni giorno, al massimo ogni due. Quindi da ieri che non è schiattato, vediamo l'effetto, vai. Un'esplosione di CO2, è pazzesca. Mezzo del prosecco. Mezzo del prosecco. Mezzo del prosecco. Grazie. Un saluto. Alimentazione spontanea, non muore nessuno. Non si sa mai. Alimentazione spontanea, non muore nessuno.